Ciao, mi chiamo Alfonso Cirella e sono massaggiatore ed allievo della scuola professionale di massaggio Diabasi. Oggi voglio parlarti del mio percorso con Diabasi e di come pian piano mi stia affermando con il suo brand. Ho iniziato nel 2017 con il corso di massaggio base svedese, di cui ricordo l'affermazione del mio direttore regionale Michele Tuosto Da domani sarete massaggiatori a tutti gli effetti. Ma i frasi fu più vera. Da allora ho creduto tantissimo nel mio lavoro e sull'onda dell'entusiasmo ho terminato il mio percorso biennale in un solo anno. Devo però ringraziare un'altra persona che mi ha trasmesso l'amore per quello che faccio e sto parlando della docente Anna Maria Trotta. Diabasi è una garanzia per tutti coloro che vogliono affacciarsi al mondo del massaggio e la scuola leader in Italia è non per caso. In fondo siamo un po' tutti figli di Diabasi e i nostri colleghi, i docenti e tutto lo staff sono la nostra famiglia. Così dopo aver terminato il diploma biennale ho deciso di non abbandonare Diabasi e mi sono iscritto al diploma di massaggio massoterapico del benessere. Un diploma che consiglio a tutti coloro che non vogliono fermarsi al solo campo olistico, ma vogliono trattare la muscolatura a 360 gradi. Oggi possiedo più di 25 attestati di merito e ben 5 diplomi, ma non voglio fermarmi qui, in quanto ritengo che un vero professionista debba essere in continua formazione ed aggiornamento. Ho sin da subito lavorato con i massaggi cercando qualche opportunità lavorativa nel napoletano. Così la mia prima esperienza è stata in una spa della mia città. Poi ho lavorato in uno dei più belli hotel di Napoli, il San Francesco al Monte, e successivamente due villaggi in blu serena, uno in Calabria e l'altro in Puglia. Ma quello che vedete alle mie spalle è il mio studio, studio a marchio Diabasi. È un grande orgoglio e anche una grande responsabilità avere un proprio studio, essere rappresentato e rappresentare Diabasi. Perciò vi invito a fare un grande passo, ovvero quello di richiedere il brand Diabasi, non prima di aver aperto Partita IVA. Questo dicembre, inoltre, sono stato selezionato tra i 23 massaggiatori di tutta Italia per andare a Sanremo, in occasione del Festival della Canzone Italiana, per massaggiare artisti e nonna. Ciò è stato possibile partecipando ad un contest organizzato da Maria Antonietta Giannone e Giovanni Vasta, che ringrazio, in cui siamo stati messi alla prova su aspetti inerenti al massaggio. È stata sicuramente l'esperienza più figa e divertente della mia carriera da massaggiatore. Vivere Sanremo nella sua atmosfera migliore, essere a contatto con gli artisti che fino ad allora avevo visto soltanto in televisione, massaggiarli e chiedere loro un selfie è stato qualcosa di inspiegabile. Mi ha arricchito tanto questa esperienza, anche perché ho conosciuto tante belle persone sparse un po' per tutta Italia, a cui auguro il meglio. Grazie per essere arrivati alla fine di questo video, io vi saluto e vi do un grande in bocca al lupo.